La mia performance è dal titolo di Venire Anna, che poi capirete perché quando la vedrete, citando una frase di Anna Magnani che è riportata nella prima pagina del mio catalogo, che poi chiedetelo, insomma, che poi farò anche una bella dedica, che può valere questa frase anche per il mio lavoro. Allora, non so se sono un'attrice, una grande attrice o una grande artista, non so se sono capace di recitare, ho dentro di me tante figure, tante donne, duemila donne, ho solo bisogno di incontrarle, devono essere vere, ecco tutto, come i miei guardi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.